Dettava ordini dal carcere Vincenzo Stranieri, 51 anni, gli ultimi 25 dei quali li ha trascorsi dietro le sbarre. Adesso è detenuto all'Aquila, dettava ordini alla moglie Paola Malorgio, 56 anni, al genero Alessandro D'Amici, 32 anni, e agli altri affiliati del clan, finiti in manette a chiusura dell'operazione Giano della squadra mobile di Taranto, in esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare emesse dalla DDA di Lecce, ad inchiodare il boss una lettra, sequestrata nel 1987, inviata da Giuseppe Rogoli, fondatore della Sacra Corona Unita, ad un altro affiliato, righe da cui emerge chiaramente l'appartenenza di stranieri all'associazione, un documento storico di cui uno stralcio è stato letto dal procuratore capo della DDA Cataldo Motta. Sono già informati, anche perché non è che siano tanti, dice sono tanti. Da noi, per esempio, ci sei tu, il destinatario di questa lettera è Tonino Dodaro, capo zona di Lecce, ci sei tu e compare Vincenzo Strò, gliel'ho fatto fare io, poi ho dato istruzioni di darglielo a compare Gianfranco. Insomma, uno per ogni provincia, quindi per Lecce Tonino Dodaro, per Taranto Vincenzo Stranieri, per Brindisi Gianfranco Bugliese. Associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione di armi ed esplosivi, attentati dinamitardi, tentato omicidio, rapine, estorsioni, traffico di sostanze stupefacenti e spari in luogo pubblico. Questa è la sfilza di accuse che ha fatto scattare i 18 arresti. Il clan stranieri avrebbe tentato di infiltrarsi nella pubblica amministrazione. A finire nei guai, anche Antonio Pescatore, dirigente dell'area tecnica del comune di Manduria, accusato di abuso di ufficio. Il dirigente avrebbe lasciato ampliare l'area parcheggio nei pressi dell'ospedale di Manduria, gestita dall'impresa Global Work di Alfonso Vito, ma di fatto amministrata da Pietro Tondo, arrestato anche lui. Le mani sarebbero state messe anche nella gestione dei parcometri del comune di Fragagnano e dei parcheggi della fiera pessima di Manduria. Un intero capitolo dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, Antonia Martalò, è dedicato alle infiltrazioni amministrative. Particolarmente inquietante, scrive il GIP, la documentata contiguità del clan stranieri ad amministratori comunali per i quali gli affiliati procurano voti e consenso elettorali nell'aspettativa di rivedere in cambio dei favori. Le indagini erano iniziate nel 2008, dopo che fu fatta esplodere una bomba sotto l'auto, una forfiesta, dell'agente scelto Luigi Marasco, un attentato per intimorire gli investigatori che erano sulle tracce di un grosso traffico di droga.